Mario Rigoni non ce l'ha fatta. L'anziano rimasto ferito in seguito a un pauroso incidente avvenuto ad Asiago qualche giorno fa è morto a causa delle gravi ferite riportate nella carambola. Lo schianto si era verificato giovedì in via Pennar dove Rigoni era uscito di strada mentre viaggiava al volante della sua Fiat Punto. La macchina si era schiantata contro un albero causando al conducente gravi traumi. Rigoni aveva 87 anni, viveva ad Asiago ed era un agente di polizia in pensione.